Sono Alessandro Bertin, coordinatore del Master in Marketing e Comunicazione dell'OIED di Torino. Lavoro nel campo della comunicazione da oltre vent'anni, attualmente sono presidente e amministratore delegato della società Spinto che si occupa di strategie di comunicazione e di posizionamento e di brand reputation per le aziende, operando principalmente nel campo delle relazioni con i media, dell'organizzazione di eventi e del social media manager. Questo Master è arrivato alla ventesima edizione, anzi l'ha superata perché adesso siamo alla ventunesima, è un po' uno di fiori all'occhiello, della sede di Torino e come dice il nome stesso è un corso avanzato per persone che già sono inserite nel mondo del lavoro e che vogliono trovare il proprio collocamento nel mondo del marketing e della comunicazione, quindi da un lato la reputazione, la comunicazione che lavora sulla reputazione e posizionamento delle aziende e delle organizzazioni in senso più allargato, e del marketing, quindi fidelizzazione dei clienti, ricerca di nuovi clienti, vendita di prodotti e servizi. Un mondo molto ampio, un mondo dove le discipline sono sempre più sfumate, confinanti e complementari, un corso che si è adattato alle esigenze del mercato negli ultimi anni, potenziando tantissimo l'area digital con l'inserimento di verticalità specifiche nell'ambito del social media management, della strategia social, del web marketing, ma che conserva un DNA solido sulle discipline di base. È importante dire che non è necessario aver studiato prima marketing e comunicazione per frequentare questo master, si parte da zero e si cerca di portare tutti ovviamente al massimo livello nel corso di un percorso che dura un anno, che ha frequenza serale per consentire a chi lavora di poterlo frequentare e che prevede al proprio interno due progettazioni almeno con committenza reale. Committenza reale vuol dire aziende o enti, organizzazioni pubbliche che ci danno un brief e sul quale i ragazzi poi lavorano seguiti dai docenti per realizzare poi un output progettuale che viene consegnato a quello che a tutti gli effetti è un cliente. Quindi il metodo IED, cioè il learning by doing, l'imparare facendo, portato diciamo ai massimi livelli, trattandosi di un master per l'appunto, quindi una parte teorica sempre affiancata a una grossa grossa componente progettuale. Il mondo delle aziende è il mondo con cui noi lavoriamo e che è importante non solo per le committenze progettuali ma anche per il percorso successivo alla termine del corso, perché tutta la relazione che IED ha messo in piedi nel corso di questi anni con il mondo delle imprese consente poi di raggiungere quello che è il nostro placement. Entro sei mesi oltre il 90% dei nostri ragazzi trovano un posto di lavoro che consente loro di mettere già a valore quello che hanno imparato. Gli sbocchi sono molto vari in un mondo della comunicazione sempre più variegato che premia sempre di più competenze che si intersecano fra di loro. Andiamo ovviamente dai grandi aziende, direzione marketing e comunicazione, al mondo dell'agenzia, gli account, gli addetti stampa, organizzazione, eventi. Ovviamente all'interno del percorso ogni ragazzo ha modo poi di comprendere quali sono gli ambiti in cui riesce a esprimersi al meglio. Grazie. 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 Grazie.